Tutta intanto alla senatrice Cirinà, perché ho letto che lei, credo tra le tante cose, ha partecipato anche alla contro-manifestazione, diciamo alla manifestazione che si opponeva al congresso mondiale, lei ha detto il concetto di famiglia tradizionale è fascista. Io ho cercato di spiegare che quel cartello utilizzato con quella mia fotografia, che mi prendeva peraltro nella manifestazione dell'8 marzo, quindi tutto va contestualizzato, non è che quel cartello io l'avevo esposto in Senato o chi per dire, riprendeva un motto fascista, Dio patria famiglia è un noto motto del ventennio, quindi riportare il discorso sulla famiglia indietro, ritornando a quei concetti, secondo me è sbagliato, peraltro condivido pienamente quello invece che dice il professor Fusaro, è lì che va protetta la famiglia dalle intromissioni esterne, tra cui quella del capitalismo è sicuramente la più pericolosa, però come dire c'è da spiegare meglio alcuni concetti, mi ci vuole un attimo più di tempo. Sì sì, adesso ne parliamo.